Ciao amici di Tragato Games, lunedì 18 giugno e sono veramente contento di darvi buone notizie Prima buona notizia, il DLC di Euro 2020 arriva, arriva fra pochissimo, davvero fra poco Pensavo, io onestamente avevo ipotizzato che sarebbe arrivato l'anno prossimo direttamente E invece Konami ha deciso di farlo uscire lo stesso, ovviamente gratuitamente Ed arriva il 4 giugno Tra pochissimo, dai, un paio di settimane ed arriva Altra buona notizia è che da oggi, lunedì 18 giugno, tornano i giocatori in evidenza Che andiamo subito a vedere assieme Finalmente, finalmente una buona notizia ed eccoli qua Oggi ci sono i giocatori in evidenza di Tottenham ed Arsenal Come potete vedere tranquillamente da soli, ma adesso li andiamo a vedere in dettaglio Finalmente, finalmente ragazzi era ora che le cose si cambiassero un po', cambiassero verso Allora ci prendiamo le nostre 30 monete MyClub E andiamo subito a vedere gli agenti ed il pool Allora, pool da collezione, questo è il classico worldwide Vabbè, andiamo un attimo a scoprire più da vicino 30-90, 180 Abbiamo Ronaldo, Messi, Piquet De Gea, Griezmann, Busquets, Wameyang, Thiago, Pogba, Pjanic, Jordi Alba, Coutinho Dai, un po' di tutto E io un paio di giri li faccio con le monete d'oro Perché a GP sono messo un po' Maluccio E sì, e cerco sempre il solito Messi Vediamo che succede Andiamo in Italia Un altro Cristiano Ronaldo, no dai Pallone d'oro della Juve Di chi si tratta Oh, Danilo Danilo Terzino destro Mi sa tanto che diventa Esp Con lui Casares e Adelaide Tutti i prossimi Esp Intanto aumento l'abilità gestionale Facciamo un altro giro Paghiamo con monete MyClub Eh, IGP Senza il rinnovo dei contratti della Legend Edition Poi con i giocatori livellati Cresce parecchio Sempre Italia Sempre Italia Pallone nero della Juve Sembra proprio lui Eh sì, CR7 Ce ne ho due in evidenza E il terzo Ronaldo Diciamo base E a Ronaldo sto a posto Honestamente Ho anche Alexandro Interessante Un terzino sinistro E Cedric Ma Messi Niente però Per carità Pescare qualsiasi Cristiano Ronaldo E sempre una gioia Allora Agente speciale Giocatori in evidenza Cominciamo Dal Tottenham Harry Kane 93 Niente male Finalizzazione 98 Ioris 91 Scusate Eccolo Niente male Guardate un po' E livelli 21 Capri Sanchez Sanchez 95 95 Berguin Esa 90 Discreto Dele Alli Io ce l'ho in evidenza Lo adoro questo giocatore 90 Lo Celso 90 Aurie 88 Wings 86 34 Belli di crescita Ma dai Giretto di Arsenal Vediamo che succede Anche se Non c'è proprio quello che Che vado cercando Sostanzialmente Certo Kane ha una bella punta Ma Di punte ne ho parecchie Va bene Comunque Vediamo Facciamo un giro Adesso che un po' Di monete ci sono Pallone nero Pum 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 E Kane Harry Kane Eh si Eh si Beh non ci dispiace Una punta che parte subito Da 93 Non è proprio adattissima Per il mio gioco Ma Ragazzi Sono contento Non ce l'ho avuto mai Kane In PES Quindi E' interessante Lo proverò Arsenal Andiamo al profilo Ecco i bersagli 100% nere Obama Young 92 E beh Ce l'ho Ce l'ho Però L'ho usato poco Fino ad oggi Leno 91 Pepe 91 Accelerazione 95 Wow Non mi dispiacerebbe Pepe Anche lui non l'ho avuto mai Ozil 90 Saka 90 Mediano Niente male David Luiz Vecchia conoscenza Mustafi 87 Wenduzzi 87 E basta Ah si dai Facciamo anche un giro D'Arsenal Oggi siamo contenti Di queste Notizie Vediamo un po' Forse Forse lui Forse lui E lui Non ho visto il numero 19 Vediamo Si Oh Che bello Pepe Un E da 91 Niente male Niente male Niente male Avanti E faremo qualche esperimento Vediamo un po' Giocatori forti ce li ho Dopo Bisogna sempre Scegliere Bene Questi erano i giocatori In evidenza E andiamo Un po' A vedere Le challenge Qui mi pare Che ci sono sempre Le stesse cose Onestamente Ho letto Rapidamente Prima di iniziare il video Ma controlliamo bene Allora Win streak challenge Dettagli di competizione Vince tutte e tre Le partite Beh vabbè Giocatori di livello 1 Black ball Ci tocca provarla Ci tocca provarla Anche la win streak challenge È tosta Perché una cosa È fare 4 punti In 3 partite Una cosa È vincerle tutte e tre Tosta davvero E qui invece C'è il solito Contro com 3 partite Ognuna Difficoltà Una stellina 5000 gp Dai ragazzi Oggi è una buona giornata Davvero Gli agenti di Arsenal E Tottenham Non sono proprio Il top del top Ma l'importante Era appunto Ricominciare E finalmente Si comincia Con i giocatori In evidenza E l'altra notizia Molto bella È che il 4 giugno Arriva finalmente Il DLC di Euro 2020 Che avrà ripercussioni Anche su MyClub Con Konami ha promesso Varie Vari eventi E tutto quanto E questo è sicuramente Una buona notizia È un modo Per ravvivare PES 2020 In attesa Del 2021 E quindi oggi Davvero Non c'è Niente Di cui lamentarsi Finalmente Cambiamo verso E finalmente C'è C'è una bella Accelerazione Da parte di Konami Vediamo se giovedì Ci sarà qualcosa Anche legato Alla Bundesliga Perché questo Fine settimana Il campionato tedesco È ricominciato Io vi ringrazio Come al solito Per l'attenzione E con PES Ci rivediamo Giovedì Tutti i giorni Mi trovate su Italiato Games Videogiocaregratis.it Il blog di PES Italia Eccetera Eccetera Ciao E buon PES a tutti